La stessa cosa sono il vivo e il morto, il desto e il dormiente, il giovane e il vecchio, questi mutando trapassano in quelli e quelli ritornano a questi. Frammento 22 di Eraclito Eraclito è uno dei filosofi del cosiddetto periodo presocratico più affascinanti e uno dei grandi pensatori dell'antichità. Per questo ho pensato a dedicare al filosofo di Efeso una puntata di vite filosofiche, puntata di vite filosofiche che parte come fonte da Diogene Laerzio, il quale è autore nel III secolo d.C. della raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. In quest'opera abbiamo aneddoti, racconti della vita dei grandi filosofi greci. In modo particolare abbiamo molti racconti di vita inerenti a Parmenide, Eraclito, Pitagora, i Milesi, dunque molte, molte storie filosofiche le possiamo derivare dall'opera di Diogene Laerzio. Eraclito e Parmenide, già in un altro video ve li ho presentati, sono di fatto i due grandi antagonisti dell'antichità, il filosofo di Efeso contro il filosofo di Elea, il filosofo del divenire dell'essere e il filosofo della immutabilità dell'essere. Ma questa sera vediamo alcuni aspetti buffi, ironici, esagerati della vita di Eraclito. Vita che probabilmente passa dalla realtà, dalla leggenda, dalla verità empirica alla narrazione mitica molte, molte volte. Come i grandi filosofi, come i grandi personaggi, i grandi letterati, i grandi poeti, anche Eraclito ha una vita che viene mitizzata, che viene raccontata, che viene accresciuta, che viene appunto trasformata di voce in voce, di racconto in racconto, di anno in anno. Vediamo alcune di queste aneddotiche, di queste leggende, di questi racconti. Sicuramente questa produzione aneddotica, mitica, leggendaria su Eraclito lo hanno trasformato in un personaggio inconfondibile. Un nobile, appunto, di origini nobili, ma non incline a governare. Fustigatore dei costumi dell'epoca, uno vale diecimila, un uomo sveglio, vale diecimila dormienti, filosofo dunque elitario, antidemocratico, nato, nato probabilmente vissuto a cavallo tra il 500 e il 400 avanti Cristo, ebbe essere nato intorno al 535 a Efeso, e morto sempre a Efeso nel 475. Ebbene, Eraclito si dice che sia vissuto ai tempi del re persiano Dario, e si dice addirittura che discendesse dai re della sua città natale, Efeso. Siamo dunque nelle colonie greche, nell'Anatolia, nell'Asia minore. Ma si racconta che, con il suo carattere burbero, si sia immediatamente liberato da questa carica, liberato di questa carica, tolto da questa incombenza di nobile, e abbia dato l'incarico, il fardello, l'onere e gli onori di essere uomo politico, nobile, al fratello minore. Eraclito, che era sicuramente misantropo, esprezzante della massa del popolo, non voleva partecipare al governo democratico della città, sempre in ottica di democrazia elitaria, ristretta, aristocratica, gli uomini, i cittadini, non le donne, non gli stranieri, i benestanti. Dunque, in quest'ottica di democrazia elitaria, comunque, Eraclito non si rispecchia, non si trova a proprio agio, appunto, la misantropia, la poca fiducia negli uomini, lo portano ad allontanarsi dalla politica. Dunque, quando i suoi concittadini esiliarono l'aristocratico Ermodoro, Eraclito andò su tutte le fori, era un suo amico, e questo esilio forzato, imposto ad Ermodoro, testimonia, ci dice appunto Eraclito, la pochezza morale della democrazia, e consigliò pubblicamente a tutti i governanti democratici di allontanarsi e di impiccarsi, e di lasciare il governo della città ai bambini, che meglio avrebbero governato rispetto alle loro mediocrità, alle loro bassezze, alle loro volgarità. Era sicuramente un uomo poco equilibrato, ci dice Diogene Laerzio, ma non era privo chiaramente di efficacia, poco equilibrato, ma non appunto privo di efficacia. grande verbo, grande capse di parola, e appunto disprezzava la massa, disprezzava anche gli uomini illustri, dava dell'imbroglione a Pitagora, chissà, forse aveva anche ragione, e riteneva che Omero, tutto sommato, non fosse così da elogiare, anzi avrebbe meritato qualche fustigazione. La leggenda ci dice che rifiutò l'invito del re di Persia, Dario infatti, lo avrebbe invitato a corte, avendo sentito ben parlare della sua opera filosofica, ed era incuriosito. Eraclito si presentò a corte, l'avrebbe anche trattato un po' meglio di quanto era soltanto tra gli Efesini, ma poi a un certo punto sbotta, sbrocca e declina l'invito, se ne va via, e assolutamente gli disse che tutto il fasto della corte non lo interessava. Eraclito però disprezzava certamente i politici, disprezzava anche il re di Persia, disprezzava i democratici, disprezzava la massa, ma disprezzava soprattutto i medici. Ci dice tagliando e bruciando in tutti i modi pretendono ancora di essere pagati. Aveva proprio il mondo in grande dispitto per usare l'espressione di Dante. Secondo Diogene Laerzio addirittura lo dimostrò anche i propri danni quando si trovò di curare la sua grave malattia, l'idropisia. Lui soffriva di questa malattia che aveva appunto caratteristiche di aumentare i liquidi del proprio corpo, l'acqua, e dunque si era alla fine ritirato un'eremita, aveva soltanto di erbe, si cibava di erbe, di arbusti, e quando si accorse che la vita vegetariana lo aveva appunto provato ad ammalarsi di idropisia, e dunque aveva assunto ormai talmente tanti vegetali da aver romato l'acqua del proprio corpo non riusciva ad eliminarla, allora decise di non rivolgersi agli odiati medici, ma decise di curarsi da solo. In che modo? Sapete creare siccità da un'inondazione? I medici non capivano nulla. Allora Erachito rinunciò alla medicina e pensò di curarsi con la filosofia, un genio, un folle, lo adoro veramente, cioè con la sua teoria degli opposti, l'equilibrio nasce degli opposti, dunque se io soffro di idropsia, se ho molta acqua nel corpo, il modo di curare il corpo sarà quello di insabbiarmi e attraverso il calore del sole guarire, trasformare l'acqua, solidificarla, farla evaporare, solidificarla e dunque si coprì fino al collo di sabbia e si fece mettere anche sopra dell'etame in modo tale che i raggi del sole arrivassero al suo corpo ancora più caldi e si espose appunto i raggi del sole e rimase lì, però quello diventò il suo letto di morte perché gli amici presunti tali, forse persone che erano state da lui insultate non andarono a salvarlo. C'è ancora una notizia più raccapricciante, la leggenda nera ci dice che addirittura ricoperto di letame sotto la sabbia sarebbe stato divorato da cani randaggi che gli divorarono appunto il volto e fu ritrovato morto sotto il letame divorato dai cani a brandelli. Questa è la triste fine di un uomo oscuro, scorbutico, geniale, l'autore del pantarei, del logos e del fuoco, dell'armonia dei contrari, della lotta incessante tra il bene e il male e il freddo e il caldo, la morte di un uomo appunto eccezionale di un pensatore che prima di tutti ha osato dire che l'equilibrio, il progresso, che la realtà è figlia di un caos, di un conflitto, di uno scontro tra opposti, ha osato pensare cose che altri umani non avevano minimamente osato pensare. Alla prossima vita filosofica.